Il 7 settembre è giovedì, la giornata di questo evento che sta prendendo una piega degli sviluppi, una piega detto in termini motociclistici internazionale, visti i partecipanti, gli ospiti e le personalità, inizierà dal pomeriggio. Noi apriremo le porte di Tavulia alle 14 e fin dalle prime ore ci sarà un intrattenimento musicale con dei DJ, in particolare DJ Ralf, che è un amico di Valentino, ma è una persona molto conosciuta nei nostri luoghi. Alle 8 e mezza, quindi 20 e 30, inizierà lo spettacolo dell'evento, perché a questo punto sta diventando uno spettacolo, con la diretta di Sky, su Sky Sport, verrà fatto in diretta. I presentatori sono gli storici della MotoGP, quindi Guido Meda, Mauro Sanchini e Vera Spadini. Avremo diversi ospiti che saliranno sul palco, ripercorrendo tutte le fasi di una carriera della leggenda dello sport, credo tra le più conosciute al mondo, quella di Valentino Rossi, per poi concludersi con la consegna delle chiavi della città, che è un atto istituzionale ed è un riconoscimento che ci sentiamo in dovere di dare a Valentino per il suo attaccamento al nostro territorio, a Tavuglia, alla nostra regione e per la promozione che in tutti questi anni, più di un quarto di secolo, lui ha svolto in giro per il mondo, portando la conoscenza e i nostri valori attraverso la sua capacità comunicativa e il suo sport. Sicuramente festeggiare Valentino Rossi è sicuramente un atto importantissimo, la consegna delle chiavi di questa città ha un suo significato simbolico particolarmente importante, ma soprattutto quello che mi piace sottolineare di questo grande campione è che continua a stupirci e adesso lo sta facendo grazie appunto a VR46 Academy, che è proprio un'accademia che lui rivolge ai giovani, ai giovani piloti, quindi a dei giovani talenti, che vogliono proseguire ovviamente nel suo esempio uno sport, che è il motociclismo, quindi cercando anche di trasmettere a questi giovani ragazzi innanzitutto i valori dello sport, ma credo anche un altro aspetto, la sicurezza, perché comunque il motociclismo è uno sport che richiede anche questo aspetto. Quindi questa sua particolare attenzione verso i giovani credo che sia un ulteriore valore aggiunto, che ci faccia capire quanto questo campione sia grande.